Il maltempo ha causato l'insabbiamento del porto canale laddove erano state spostate le imbarcazioni per cercare di limitare i danni causati dall'arrivo delle forti raffiche di vento che hanno portato gelo e neve su tutta la regione. La marineria, dopo un incontro con la direzione marittima e le istituzioni regionali, ha ottenuto l'avvio immediato di un dragaggio limitato a 10.000 metri cubi di sabbia. A marzo poi l'annunciato abbattimento della diga foranea, che dovrebbe risolvere, dopo anni di polemiche e danni per la marineria, lo spinoso problema dell'insabbiamento del porto di Pescara. Sono lavori che verranno fatti speditamente. Tra 10 e 15 giorni si completa questo intervento di dragaggio necessario. A questo seguiranno altri interventi. Nel frattempo siamo pronti per il taglio della diga foranea e stiamo mettendo in progettazione esecutiva l'allungamento del molo a protezione ulteriore della vita della marina di Pescara e dell'economia del mare. Poi abbiamo anche interventi riguardanti i parabordi lungo il molo nord e il molo sud a difesa delle imbarcazioni della nostra marineria e poi anche interventi riguardanti per esempio il collaudo delle telecamere, le colonnine elettriche per quanto riguarda l'attingimento delle energie che servono alle imbarcazioni. Oggi abbiamo incontrato il capo dell'autorità portuale che si è reso disponibile a incoraggiarci, a venirci dietro e davanti a sostegno. E poi riconosciamo anche la condizione di difficoltà di questi giorni della marineria per cui con l'autorità marittima competente stiamo costruendo una procedura di sostegno finanziario alla categoria.